... Liberani al volo, Beneber e Miccoli, Miccoli, forte il tiro, rete, un gol, capolavoro! Non ci ha pensato un attimo, stop e tiro sul secondo paro a giro, questo lo fanno veramente i grandi giocatori di istinto, lui è davvero un grandissimo istintivo in mezzo al campo, ed è straordinario quello che ha pensato e realizzato. ...riapre verso Silipo, si propone Doda, Silipo converge, palla sul sinistro, lo prova ed un gol fantastico di Andrea Silipo, Palermo 1, Biancavilla 0! ...un gol pazzesco, fa solo gol meravigliosi, Silipo! ... ... ... ... ... ...